Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale dei Piloti e benvenuti, come potete leggere qui sotto, a un TG speciale. Ve l'avevo promesso e da un po' che vi dico che avrei voluto fare una puntata con un ospite particolare, un ospite speciale, ebbene, quest'ospite è arrivato proprio oggi. Sto parlando di un pilota, un fantastico pilota, andava fortissimo, poi ha smesso i panni del pilota e diventata ingegnere, è stata in Ferrari, in Maserati, adesso è in Alfa Romeo e, come dire, ha fatto del motosport, della sua passione, il suo lavoro. Ebbene, ho l'onore e il piacere di presentarvi Matilde Laguardia. Ciao Matilde! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Nicola, che bello essere qua, sono veramente contenta di questa, di avere questa opportunità di essere qui con te oggi e di ricordare anche un sacco di cose. Quanto tempo, mettiamoci un pochino più in primo piano, eccoci qua, da quanto tempo è che ci conosciamo? Eh, ormai sono, per l'esattezza, 22 anni. 22 anni? Io ne avevo 19, quindi adesso fatemi i conti, purtroppo ho parlato troppo. Non dire quanti ne ho io, non dire la differenza di età che ci abbiamo. Sì, perché questo è il ventiduesimo anno della Selezione Nazionale dei Piloti e tu arrivasti da noi come pilota. Avevi un anno di esperienza o poco più e io ogni tanto mi capita di parlare di te con gli altri piloti e ne parlo sempre come, non lo dico perché qua adesso sei con noi in questa diretta, ma lo dico perché è vero, sei stata uno dei più forti piloti che io abbia mai incontrato, ma non solo nell'ambito della Selezione Nazionale dei Piloti, no, in generale di tutto il panorama del motosport e non parlo tra le ragazze. Io sono sicuro che per la tua capacità che hai, non solo alla guida, ma anche di cogliere le occasioni che ti ha contraddistinto sempre, che ti ha fatto fare tutta questa strada, se tu avessi avuto allora l'opportunità della F1 Academy, saresti lì a rappresentare l'Italia, soprattutto a vincere a mani basse. Io faccio l'istruttore da una vita, oramai, sono stato anche un pilota, so quello che dico, questa ragazza volava e bastonava tutti i maschietti. Avevi una velocità innata, clamorosa, clamorosa Matilde. E poi, purtroppo, come tanti di noi, ha dovuto abbandonare la passione, per, cioè, le piste, per comunque continuare a coltivare la sua passione in qualità di ingegnere. Hai lavorato in Ferrari, hai lavorato in Maserati, ultimamente, di recente, capo progetto della GT2 e adesso sei un top manager in Alfa Romeo. Quindi, chapeau per la tua carriera, ma dopo questa breve presentazione, raccontaci tu, presentati tu un pochino, ecco. Sì, io ho fatto un po' una parabola, nel senso che, come dici tu, ho iniziato dalle corse da ragazzina come pilota, dalla selezione, ho fatto cinque anni della selezione, cinque anni, cinque anni, e ho vinto un'edizione anche, la bella quarta, la quarta, ci ho messo quattro anni per vincere un'edizione, però già dalla prima è stata molto emozionante, molto formativa, volevo vincere veramente a tutti i costi, poi sono finita a seconda, al primo anno, poi alla fine ci sono arrivata, e poi ho continuato, come dicevi tu, come ingegnere di pista, con le formule, soprattutto in monoposto, quindi Formula Renault, Formula 3000, anche Sport Prototipi, poi sono entrata in Ferrari, Maserati, anche lì Trofeo Maserati, poi alla fine sono finita sulle ruote, già sulle vetture di produzione, perché Maserati non ha più fatto gare, non ha più fatto corsi, quindi per quasi un decennio ho continuato sulle vetture di produzione, ho fatto esperienze comunque bellissime, fantastico, ho girato il mondo, perché poi ho lavorato tanto in sperimentazione, quindi comunque è stato molto formativo e divertente, poi quando Maserati ha deciso di rifare un'auto da corsa, alla fine, per fortuna mi trovavo lì, io avevo lavorato sulla vettura stradale, che è l'MC20 stradale, perché ero responsabile dell'architettura della vettura stradale, e avevo un passato nel motorsport mettendo insieme le cose, diciamo è venuto abbastanza naturale lasciarmi la gestione dello sviluppo lato ingegneria della macchina, della macchina da corsa, e quindi abbiamo lavorato su questa vettura, l'abbiamo sviluppata, e ha debuttato il Pol Ricard a ottobre, cogliendo un secondo posto al debutto, quindi per adesso i fatti ci hanno dato ragione, adesso poi vedremo il proseguo, perché abbiamo fatto una gara alla fine. Poi alla fine adesso sono passata in Alfa Romeo, perché comunque adesso va avanti con le sue gambe, quel progetto là. Però è stata tutta una parabola, sì, veramente, da che ero ragazzina, io ho iniziato a correre a 15 anni, quindi a 19 sono venuta dalla selezione, quindi ero veramente, sì, i primissimi anni che mi approcciavo, e se consideri che la selezione l'ho fatta, ho corso più o meno fino ai 25 anni, grosso modo, perché poi quando ho iniziato a lavorare come ingegnere di pista, più l'università, non facevo fatica a portare avanti tutto, quindi poi ho un po', diciamo, appeso il casco al chiodo, anche se mai definitivamente. Però se consideri la selezione, 5 anni su 10, ha inciso non poco, non poco, non solo a livello poi di pilota, a livello anche umano, a livello, come dici tu, anche di saper cogliere le occasioni, non lo so, mi ha insegnato molto la selezione, non solo meramente per la guida, ma proprio a livello di persona, a livello di persona, quindi stati bei ricordi, bei ricordi, mi piace anche tornare giù qualche volta. Tra l'altro, tanto per rientrarti, hai partecipato alla Race of Champions, tra tutti i campioni di tutte le serie, sei arrivata seconda per un soffro del primo. Mi sono girata io, ho sbagliato all'ultima, l'ultimi giri, non so niente, ho non arrabbiato la pressione. Lo stavo per dire, mia lì per vincere ha fatto un piccolo errore, definita seconda, e questa con tutti i campioni della serie più grandi, tra cui c'era anche un altro, che non nominiamo per carità, perché adesso facciamo un po' di video, facciamo video che parlano tanto di Formula 1 e che oggi lavora attivamente in Formula 1. Ma al di là di questo, io sono, tutte le volte che parlo con te, non posso fare meno di ricordare quel pezzettino di libro che hai scritto, che mi hai invitato, e che parla del nostro incontro, ed è un qualcosa che mi fa venire i brividi. Se vuoi accennalo, se ti va, se ti fa piacere. Sì, come no, come no. Io sì, diciamo che sono stati talmente, anni talmente emozionanti, diciamo, da quando ho iniziato a correre, finché in realtà quella storia non è un libro, è una storia se vuoi, perché è abbastanza breve, termina proprio con la vittoria della selezione del quarto anno, quando ho vinto il quarto anno, quindi quella è proprio la fine della storia. Quindi i quattro anni della selezione fanno parte, una buona parte del racconto, va dai 15 ai 22 anni. e per esempio una cosa che l'ho scritta, perché è vera, è stata, mi ricordo benissimo, al primo anno, terza gara, perché la prima l'ho vinta subito, quello è stato un problema, in realtà, se ti ricordi, 100cc, che all'epoca c'era il 100cc, l'ho vinto subito. Poi invece abbiamo corso con le formule, e non ero andata bene, e tu mi dicesti, guarda che il primo avversario che hai, sei te stessa. E da lì, infatti, quella cosa funzionò, e la gara dopo vinsi di nuovo. Questo è uno dei ricordi più vivi che ho, del primo anno della selezione, per esempio. E poi, sì, ho raccontato un po' come sono andati gli anni successivi, finché non sono riuscito a portarmi a casa, finalmente il campionato, che all'epoca poi era singolo, quindi era abbastanza tosto, poi c'erano piloti schillati, devo dire. Senza voler nulla a togliere quelli di ora, semplicemente non li conosco, però, devo dire, all'epoca, non erano... Il primo anno arrivasti seconda, di un soffio, dietro a Roberto Catalano, che correva con i prototipi, quindi non... e aveva ottimi trascorsi in Formula Monza, Formula Italia, quindi... Molta più esperienza di me, di sicuro. Assolutamente. Tra l'altro l'ultima gara la facevamo col 125 marce, che era la sua e il suo mezzo. La sua specialità. La sua specialità, e ci siamo, diciamo, combattuti il campionato all'ultima gara con quello che era il suo mezzo. Io vorremmo col monomarcia, col 100, in realtà. Poi ci fu quel... quel 2003 così particolare per Simone Franchi, che lo ricordiamo con piacere. Simone, ha vissuto un anno di magia, ha vinto praticamente tutto. Sì, è vero. Ti ricordi? Lui veniva dalla Liguria. In Genova, sì. Sì, un paesino vicino a Genova, e praticamente vinse tutto quello che c'era da vincere, però poi basta. Poi dopo quell'anno non vinse più. E poi un altro di quelli che ha fatto un bel po' di carriera anche, non da pilota, ma da ingegnere, lui nelle gare Endurance ha lavorato con il team Lavaggi. E poi comunque tu eri sempre lì che dovevi, come dire, lavorare su te stessa, sulla pressione, per per andare forte. Di fatti bastava misurarsi un pochettino, sei un po' come Mansell, no? Avetevi un gran piede, però, potevi avere più titoli, ma era veramente tanta la fame di vittoria, la foga di velocità che avevi. Comunque, ripeto, uno dei migliori piloti che abbia mai conosciuto sulla faccia della terra e credetemi, non sto esagerando niente, proprio niente. Ora, ve lo dimostreremo con i fatti, la inviteremo. Io ci vengo. per un'altra edizione della gara dei campioni della SNP che nel frattempo, sai, ha fatto tanto, tanta strada, poi magari più tardi non in registrazione, ti racconto le novità, ce ne sono tantissime. E niente, in poche parole faremo un'altra edizione, vedrete vincere a lei. Ma lo ti asperiamo, però ci vengo volentierissimo, assolutamente volentieri, però devono venire anche gli altri, eh? Eh, verranno, verranno, vedrai, adesso siamo veramente tanti, siamo 30 pilotini, eh? Ah sì, buono, buono. Comunque, non ho del tutto appeso il casco al chiodo, per esempio nel 2021, perché l'anno scorso non ho potuto fare molto, però nel 2021 ho partecipato a una gara a livello nazionale che si chiama Operazione Trionfo, magari qualcuno l'ho mai sentita. Sì, me lo ricordo. E lì alla fine, allora sì, è una selezione, anche lì si parte da tutta Italia, c'erano più di 100 iscritti e alla fine sono arrivate terza, quindi me la sono cavata, dai, sono sincera, gli altri due erano veramente più veloci e si sono super meritati la vittoria al secondo posto e io per prima dico, vero quello che dici, io purtroppo però so che non vado più come quando avevo 20 anni, te lo dico sinceramente. e quindi... Ma sei ferma da tanto tempo, non sei allenata, guarda che questo fa tantissimo, fa veramente e lì erano appunto con kart due tempi normali da corsa e quindi già per me arrivare a terza in tutta Italia al terzo posto è stata insomma una bella soddisfazione. Dopo tanti anni che non corro appunto come dici tu, che sono totalmente fuori allenamento. al netto delle 24 ore faccio giusto una 24 ore all'anno, quella la faccio la 24 ore della CRG, quella è il mio punto fisso, però a parte quello non riesco a fare molto altro, quindi insomma è stato un bel risultato solo due anni fa. Mi sono mi sono insomma sentita rincuolata come dire. No, ma io non ho mai avuto dubbi. E invece poi, allora siccome ti spiego, no? questo video che stiamo facendo nella parte integrale andrà su Racing Time che è il canale che noi abbiamo Selezione Nazionale Piloti. Abbiamo ieri festeggiato i 25.000 iscritti, quindi un bel traguardo. Però tu sei come dire anche un esempio di una ragazza determinata che fa sì che la propria passione il proprio sogno da bambina diventi un lavoro. E quindi prenderò dei pezzi di questa di questa nostra chiacchierata e li metterò anche nel canale dei bambini. Ah, bello. Sì, è bello perché stiamo facendo questo canale educativo e ho tanta voglia di proporre degli esempi positivi e tu sei uno di questi perché a un certo punto ti rendi conto che per fare il pilota ci vogliono sempre un sacco di soldi non da noi perché alla fine con noi hai corso praticamente con niente. Mi ho inventato tante anche se ti ricordi avevo degli sponsor. Sì, sì. Un'altra cosa è bellissima a trovare sponsor mi ricordo mi ricordo Avevo uno sponsor di un'azienda che vendeva biglietti per la Formula 1 non so neanche io come della Sicilia era di Catania non so neanche io come li convinzi a sponsorizzarmi per correre nella selezione me lo chiedo ancora pure io biglietti per la Formula 1 non lo so però alla fine anche la Sicilia anche la Siccolene mi dava qualcosa anche la Siccolene esattamente sì, sì mi sono inventato un po' di cose esatto a un certo punto hai capito che dovevi passare dall'altro lato della barricata e niente hai messo in pratica quello che sono stati i tuoi studi ti sei laureata dalla Sapienza a Roma a Tor Vergata a Tor Vergata scusami scusa, scusa non è no, no figura ho insomma la Tor Vergata sì però poi mi sono spostata ah ecco ricordavo la Sapienza io sì, c'era il primo anno l'ho fatta la Sapienza e no poi mi sono spostata a Tor Vergata perché c'era un gruppo di studio proprio sul karting quindi mi sono spostata lì apposta e anche lì mi sono inventata un po' di modi sono riuscita a farmi sponsorizzare dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica per correre al Motor Show di Bologna non so neanche io come anche lì come ho fatto a spirlargli quei soldi che non erano neanche pochi però ho corso al Motor Show di Bologna con lo sponsor che era il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università come è andata la gara? allora la gara stava andando bene nelle prime macie ero arrivata anche di seconda ero abbastanza avanti nella finale purtroppo al Via abbiamo fatto un mucchio non so quanti eravamo ci siamo ammucchiati saremmo stati dieci piloti almeno e ci siamo fermati tutti cioè ci siamo ci siamo ammucchiati come si suol dire è stata una prima curva fatale e invece il salto però però avevo già corso al Motor Show una volta ed ero arrivata a seconda qualche anno prima nel 1999 l'ho detto sei bravo e lì ero arrivata a seconda quindi avevo un precedente sono passata come ingegnere di pista prima telemetrista come ingegnere di pista e lì l'esperienza da pilota anche lì mi ho fatto tesoro perché comunque quando sei ingegnere e devi decidere che assetto fare alla macchina ad esempio in pochi secondi nell'arco di una sessione di prova ad esempio e il pilota si ferma e ti dice a modo suo cosa fa la macchina se tu sei stato pilota riesci a capire quello che lui ti sta dicendo perché te lo dici a volte anche in maniera molto istintiva te lo racconta anche con dei gesti dei versi e i piloti sono un po' pittoreschi quando raccontano un po' come si comporta una vettura e tu sei stato pilota però lo sai interpretare quello che dicono e questo ti aiuta tantissimo nel lavoro come ingegnere di pista proprio perché non hai bisogno di un traduttore non ci sono filtri il pilota ti dice quello che sente tu ti immedesimi e lo capisci e quindi capisci come va la macchina e che cosa fare e come agire quindi quello mi è stato cioè l'esperienza da pilota è stata super preziosa per lavorare come ingegnere di pista e ho corso tanto ho vinto anche un campionato italiano nel 2008 come ingegnere di pista campionato italiano nel Formula Renault 2000 e poi abbiamo fatto secondi nella GT2 italiana anche lì secondi nel campionato italiano Sport Prototipi e poi ho corso anche nel cioè ho gareggiato sempre come ingegnere nell'europeo di Formula 3000 che era la vecchia GP2 quella che poi è la GP2 l'Euro 3.000 e oggi si chiama Formula 2 e ora è la Formula esatto esatto e quindi è stato un bel periodo anche quello di otto anni più o meno prima di arrivare in Ferrari sì sì è stato divertente molto divertente lo suggerisco caldamente a chi è appassionato di questo sport soprattutto di farlo quando sei giovane sotto i 30 anni perché è molto faticoso comunque è un lavoro veramente faticoso però è stato sempre in giro sì sì ah io un anno quando ho vinto il campionato italiano facevo tre campionati abbiamo fatto circa 35 trasferte in sette mesi e mezzo di cui metà all'estero quindi fatti i conti dei weekend che ci sono eri sempre via praticamente è affascinante è un mondo affascinante il motorsport devo una domanda secca il pilota più forte con il quale hai lavorato allora il pilota più forte con il quale ho lavorato è un ragazzo che poi ha continuato a correre anche con le ruote coperte e ha continuato a vincere e si chiama Stefano Comini e lo ricordo con molto affetto anche perché prima di tutto eravamo diventati amici perché avevamo anche più o meno la stessa età io avevo 25 anni quando ho lavorato con lui lui forse due o tre anni meno di me e lui veniva da un team molto forte che non nomino adesso ma era un top team veramente e che però lo considerava non so come mai di secondo piano forse perché aveva pochi soldi probabilmente quindi gli dava anche materiale scadente e il fatto sta che lui era sempre in fondo alla griglia costantemente in fondo era considerato un blocco fondamentalmente quando è venuto con me invece io ero ero alle prime armi come ingegnere di pista quindi anche io anche a me davano i piloti scarsi perché ero l'ultima arrivata e mi hanno rifilato Stefano perché dicendo tanto con i forti li diamo agli ingegneri con esperienza lei alle prime armi gli diamo il pilota che era Brocco peccato che invece Stefano non era Brocco era solo come dire con pochi mezzi quindi io invece ho dato cioè gli ho dato il meglio che potevo il meglio che c'era e lui il piede ce l'aveva e con noi con me è iniziata a vincere mi ricordo praticamente una gara che tra l'altro forse ancora su YouTube perché fece la ripresa lui aveva la telecamera che a Monza siamo partiti dodicesimi campionato italiano e abbiamo vinto dal dodicesimo posto eh no ma è uno forte è uno forte e purtroppo vedi il tuo racconto ci fa capire come nel modo sport non puoi contare solo sulle tue capacità se non ti danno il mezzo giusto e questo tu mi insegni avviene sia nelle categorie di base ma anche molto 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 in alto molto in alto e questo è una cosa che i tifosi devono capire funziona così noi lo diciamo da tempo se non ti danno i mezzi giusti ho la possibilità di esprimerti non vai da nessuna parte questo vale puoi comunque rimanere nell'ambiente per esempio mi viene in mente un Davide Rigon fortissimo io non ci ho lavorato con lui però è noto che sia un vero fenomeno certo non è arrivato a correre in Formula 1 però con l'audatore Ferrari comunque vive di quello però lui era veramente senza mezzi economici ma con un piede incredibile e quindi in questo modo se insisti anche con un po' di aiuti magari riesci comunque a vivere di quello magari insomma se vuoi arrivare in Formula 1 veramente anch'io sognavo quando avevo 12-13 anni voglio arrivare in Formula 1 ma poi a parte che io personalmente nonostante tutto non credo che ne avrei avuto cioè non ne avrei avuto il piede non a quel livello sicuramente io sono sicuro di sì io sono sicuro di sì sarebbe stato bello però senza mezzi fai veramente fatica veramente fatica purtroppo il motorsport è questo è costoso il motorsport è questo è pericoloso è costoso però ci piace e anche quando sei in una squadra buona come hai raccontato tu può succedere che non vieni assecondato o non ti viene dato materiale di prima scelta e non vai può succedere può succedere però alla fine se si insiste ci sono anche altri esempi di ragazzi persone che comunque hanno insistito se hai il piede io ho scelto un'altra strada non meno impegnativa nel senso che ho insistito dal punto di vista di stare in pista al lato tecnico e non mi diciamo non mi sono pentita secondo me è una buona è una buona scelta per continuare in questo mondo altrimenti si può insistere come pilota e se hai il piede probabilmente riesci comunque a meno a vivere di questo ecco a fare una vita normale non diventi in campione di Formula 1 però però neanche niente ecco come dico io il motosport non è solo Formula 1 anche perché ti ricordi Senna cosa diceva no? che il pilota più forte che lui aveva mai incontrato era un certo Wilson sì 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 con i kart con i kart e lui diceva non riesco a capire come non sia arrivato avanti era il più forte in assoluto e mi ha anche battuto il motosport non è solo Formula 1 facciamo un salto un po' in avanti per poi tornare indietro allora ci racconti come nasce il progetto GT2 in Maserati e quali sono stati i primi passi che sono importantissimi scendi in pista con quali emozioni cioè tu hai confezionato una creatura che poi per la prima volta metti in moto e fai i primi chilometri a Varano cosa succede un po' com'è tutto questo percorso allora diciamo che la macchina è nata già posso dire onestamente a livello di idea nel lontano 2018 nel lontano 2018 perché quando si è impostata la vettura stradale era già impostata per poter per avere la potenzialità un domani di diventare una vettura da corsa anche se diciamo compariva nei piani nei piani di sviluppo della vettura c'era anche in fondo molto in fondo la versione da corsa che poi non si sapeva bene se doveva essere GT3 GT2 GT4 era presto per capire però esisteva l'idea e quindi la vettura stradale è stata già impostata a livello telaistico per poter ospitare e essere ospitare diciamo gli oggetti racing specifici racing e poter quindi essere trasformata poi ovviamente si è fatta la stradale si è fatta la versione Beva la versione spider insomma c'è stata tutta la tua vita normale stradale alla fine si è cominciato a dire a ritirare fuori il discorso su più livelli Alice è stato nel 2021 ricordo se ne è parlato tanto per tanto tempo per quasi un anno se ne è parlato diciamo facciamo non facciamo cosa facciamo chi lo fa molto così una specie di rimpallo continuo che poi non si capiva bene come iniziare nemmeno visto che in Maserati non c'è un reparto corse quindi rifare un'auto da corsa così dal nulla e metterla in pista farla correre farla gareggiare non era banale per un'azienda che fa solo autostradali non ha non ha un reparto dedicato e poi alla fine si è deciso si è diciamo presa la decisione si è individuata la categoria GT2 per una serie di ragioni condivisibili o meno però la serie GT2 era abbordabile e abbiamo iniziato a lavorare e le persone che hanno lavorato per trasformare la vettura sono gli stessi che hanno lavorato sulla vettura stradale cioè l'ingegneria delle vetture di produzione ben contente le persone hanno potuto anche lavorare sulla versione della corsa perché ovviamente sono tutte super appassionati quindi hanno fatto hanno lavorato quasi gratis se vuoi nel senso che hanno continuato le loro mansioni sulle vetture stradali e diventava quasi un hobby se vuoi una cosa divertente poter dedicare anche del tempo a una versione da corsa e molte persone cioè il gruppo è stato bello sia crearlo e sia lavorarci perché erano persone contente di fare di poter lavorare su una versione da corsa perché ovviamente sono tutti appassionati di automotive quindi il motorsport non gli pareva vero ai ragazzi ingegneri poter lavorare su una vettura non solo supersportiva ma proprio da gara ed è stata un'esperienza anche molto interessante perché poi alla fine diciamo molte cose le abbiamo imparate facendole perché era la prima macchina da corsa che facevamo l'ultima era stata fatta nel 2004 l'MC12 tra un altro campionato un'altra vettura completamente persone che non ci sono più cioè non ci sono più perché non lavorano più in azienda e quindi anche come fare una versione da corsa da gara era qualcosa da imparare da capire mano a mano come farla e alla fine in pochissimo tempo alla fine meno di un anno siamo riusciti a fare tutta la parte virtuale quindi la parte di calcoli e sviluppo virtuale anche grazie al simulatore che abbiamo in azienda che è uno dei più avanzati d'Europa con il quale già si era sviluppata la vettura stradale soprattutto nel lockdown che si potevano fare pochi test e quindi è stato sviluppato molto il simulatore è tornato utile per la vettura da corsa e finalmente a dicembre proprio sotto natale del 2022 proprio mi pare il 21 o il 22 dicembre siamo riusciti a tirar fuori dalla linea di produzione la prima scocca della versione da corsa da gara e io ero proprio presente in linea praticamente l'abbiamo fatta a mano quasi e poi tra gennaio e febbraio è stato montato tutto il resto il motore il motore quando l'abbiamo acceso messo in moto per la prima volta è stato una bella emozione perché comunque è un motore parzialmente modificato rispetto a quello della vettura stradale ha dei turbo più grandi e quindi i turbo che tra l'altro mi piacerebbe un giorno mandarti un video diventano veramente incandescenti quando lo vedi a banco pensa che quando lo mettevamo a banco in moto a banco l'asfalto fuori dall'edificio tremava ti dico solo questo l'asfalto poi dall'edificio tremava perché arrivava arrivava quel motore può arrivare anche a 740 cavalli poi sulla vettura è diciamo è depotenziata ha una calibrazione che lo tiene sotto sotto i 630 cavalli perché non servono di più tanto ti danno il BOP però lui potenzialmente con quei turbo può arrivare a 740 cavalli e funzionava quando abbiamo messo in moto la prima volta ha funzionato è stata emozionante poi abbiamo montato in vettura è anche stata una bella sfida perché aveva dei turbo più grandi quindi dovevamo riuscire a farcelo state letteralmente fisicamente e alla fine tra gennaio e febbraio abbiamo finito il montaggio della vettura e il primo marzo siamo andati per la prima volta in pista a Varano con Bertolini con Bertolini mi ricordo bene mi ricordo bene sì sì è stato bello anche proprio vederla uscire dal box per la prima volta sentire il suono del motore che ovviamente rispetto alla stradale è tutto diverso perché non hai gli scarichi stradali lì in motosport ti faceva una bella intervista sì è vero sì 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 no è stato bello vederla girare per la prima volta perché poi dopo che segui tutta la parte di progettazione vedi in virtuale la macchina la vedi in virtuale per tanto tempo per tanti mesi poi vai a creare la scocca in linea fisicamente la vedi che nasce proprio il telaio la monoscocca il telaio anteriore il telaio posteriore le sospensioni poi monti il motore pezzo dopo pezzo viene su e poi finalmente la vedi muoversi veramente fare i primi giri a Varano è stato veramente forse una delle esperienze più emozionanti che ho vissuto nella mia carriera professionale sicuramente grazie a tutti grazie a tutti